cosa abbiamo visto ieri a trieste abbiamo visto come si fa idranti manganellate lacrimogeni perfino nel giardino di una scuola violenza gratuita e premeditata delle cosiddette forze dell'ordine forze dell'ordine di questi tempi mi sembra questo un modo di dire che purtroppo mi ricorda molto altre inversioni di senso tipo esportazione di democrazia tutto questo quello che è successo è stato per sgomberare persone pacificamente sedute che difendevano i loro diritti costituzionali tra i quali l'articolo 1 non il 197 quindi abbiamo visto come si fa il male? sì ma è una cosa che abbiamo già visto mille altre volte che impressiona momentaneamente ma che in fondo non cambia molto le percezioni di chi fa fatica a comprendere cosa succede al male ci siamo in fondo più abituati no la cosa che abbiamo visto veramente tutti è la vera forza della non violenza quella sì che arriva anche ai meno attenti e fa rumore l'immagine di quelle persone pacifiche abbracciate e inginocchiate davanti agli agenti con gli scudi sotto il getto degli idranti ha fatto il giro d'italia e del mondo e ha provocato sana indignazione e solidarietà anche in molti che fino a ieri credevano ancora alla narrazione ufficiale ecco è questo che abbiamo visto veramente ecco come si fa il bene una delle cose positive di questa epoca è che tutti abbiamo una telecamera in tasca quindi la verità di quello che è successo è arrivata a moltissimi anche se magari minimizzata o nascosta dai grandi media abbiamo tutti potuto accedere ai filmati e alle fotografie che venivano dalle persone sul posto compresi i media locali abbiamo potuto non solo vedere ma sentire dentro di noi la differenza sentire quel gusto diverso il gusto di quel sentimento generato dalla risolutezza pacifica dei manifestanti nessuno può dire che sono estremisti fascisti comunisti o isti di qualsiasi genere una protesta così non può essere strumentalizzata ci provano ma più di tanto non possono fare quando è così perché ieri la violenza era da una parte sola e la violenza sta sempre dalla parte del torto e così abbiamo avuto una prova necessaria una conferma di quello che forse c'eravamo dimenticato e che diceva e faceva uno come Gandhi abbiamo avuto una conferma che funziona anzi è l'unica cosa che funziona soprattutto quando si affrontano forze che sembrano imbattibili, preponderanti e in fondo questa è la stessa cosa che disse un altro signore circa duemila anni fa lui la metteva così diceva porgi l'altra guancia beh ieri abbiamo visto che funziona ce lo siamo ricordati il vero coraggio la vera prova di forza e di umanità la vera capacità di far vacillare le convinzioni dei poco attenti e magari anche di quelle di chi ha il manganello in mano sta nel fare esattamente quello che abbiamo visto ieri a Trieste non dare le botte ma se necessario prenderle senza reagire perché questa è veramente l'unica cosa che non vogliono che facciamo e sono sicuro che ci sono molte persone tra quelli che hanno mandato i manganelli a Trieste e oggi sono molto scontente di non aver visto reazioni violente e proprio questi faranno di tutto perché la prossima volta ci sia di nuovo un gruppo di infiltrati e di manovrati violenti esattamente come è successo a Roma recentemente quindi si fa una manifestazione? bene ma si sceglie una piazza centrale e si sta lì in tanti seduti a cantare a parlare a stare insieme per darsi coraggio a filmare la piazza a condividere via social o su YouTube non c'è più bisogno di andare davanti a un ministero o un sindacato o in qualsiasi altro posto dove può essere stato preparato un agguato dove c'è pronta una sorpresa i manifestanti veri devono sempre stare attenti a non farsi coinvolgere da chi manderanno a scatenare la violenza questi qui bisogna isolarli se quattro scemi si mettono a fare casino la cosa migliore che possono fare gli altri è allontanarsi e mettersi seduti un po' più in là la polizia picchierà anche quelli che si sono spostati e si sono seduti un po' più in là sì probabilmente ma è lì che si misurerà chi la libertà la vuole solo a chiacchiere ed è sempre lì che il mondo come ieri potrà vedere bene da che parte sta la violenza sta lì la potenza degli esseri umani che ieri erano inginocchiati sotto idranti lacrimogeni e manganelli esseri umani che dobbiamo ringraziare perché ci hanno ricordato come si fa coraggio grazie a tutti